Ed eccoci di nuovo Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Vaticane Italia, vi salutano ancora Orazio Coclite che vi parla, Vincenzo Proto alla Consol per la parte tecnica e Silvia Giovanrosa in regia. Siete collegati in diretta con Piazza San Pietro per seguire l'udienza generale di oggi, mercoledì 12 giugno, ventunesima udienza generale dall'inizio dell'anno. Il Papa ha raggiunto il Sagrato, ecco ancora qualche saluto, saluterà anche i rappresentanti della Sagreteria di Stato che hanno il compito di annunciare e riassumere la catechesi, annunciare i gruppi presenti e riassumere la catechesi del pontefice in varie lingue. Il Papa, lo ricordavo nella prima parte, il Papa ha iniziato un nuovo percorso di catechesi attraverso il Libro degli Atti degli Apostoli, questo libro scritto da San Luca, evangelista, che ci parla del viaggio del Vangelo nel mondo e ci mostra il meraviglioso, splendido connubio tra la parola di Dio e lo Spirito Santo che inaugura il tempo dell'evangelizzazione. I protagonisti degli Atti sono la parola e lo Spirito e sentiremo cosa dirà a riguardo stamane il pontefice che si appresta a raggiungere, ecco in questo momento raggiunge la sede dove con il segno della croce dà inizio a questa udienza generale. Io cari amici mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto e ci risentiamo subito dopo l'udienza. Il Santo Padre da ora è inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli Pietro disse Bisogna che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. La sorte cadde su Mattia che fu associato agli undici Apostoli. Parola di Dio Du Livre des Acti dei Aposti Pierre dit Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous depuis le commencement lors du baptême donné par Jean jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Le sort tomba sur Matthias qui fut donc associé aux onze apôtres. Parole du Seigneur A reading from the Acts of the Apostles In those days Peter stood up and said Brethren one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us one of these men must become with us a witness to his resurrection and they cast lots for them and the lots fell on Matthias and he was enrolled with the eleven apostles The word of the Lord aus der Apostelgeschichte Petrus sprach Es ist also nötig dass einer von den Männern die mit uns die ganze Zeit zusammen waren als Jesus der Herr bei uns ein und ausging angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein und das los fiel auf Matthias und er wurde den elf Aposteln zugezählt Wort des lebendigen Gottes Lectura de los Hechos de los Apostoles Pedro dijo Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías que fue agregado a los once apóstoles Palabra de Dios Leitura dos Atos dos Apóstolos Pedro disse Convén pues que destes homens que tem estado en nuestra compañía todo tiempo en que el Señor Jesús viveu entre nosotros a comenzar del batismo de João hasta el día en que de nuestro medio fue arrebatado un del se torne conosco testemunha de su resurrección a sorte caiu em Matías que fue incorporado aos once apóstolos Palavra do Señor قراءة من سفر أعمال الرسل 15. 15. 15. Piotr powiedział, trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 16. 17. 18. Buongiorno. Abbiamo iniziato un percorso di catechesi che seguirà il viaggio, il viaggio del Vangelo narrato nel libro degli Ate degli Apostoli, perché questo libro fa vedere certamente il viaggio del Vangelo, come il Vangelo è andato oltre, oltre, oltre. Tutto parte dalla resurrezione di Cristo. Questa, infatti, non è un evento tra gli altri, ma è la fonte della vita nuova. I discepoli lo sanno e, obbedienti al contatto Gesù, rimangono uniti, concordi, perseveranti nella preghiera, si stringono a Maria, la madre, e si preparano a ricevere la potenza di Dio, non in modo passivo, ma consolidando la comunione fra loro. Quella prima comunità era formata da centoventi fratelli e sorelle, più o meno. Un numero che porta dentro di sé il dodici, emblematico per Israele, perché rappresenta le dodici tribù, ed emblematico per la Chiesa, per via dei dodici apostoli scelti da Gesù. Ma ora, dopo gli eventi dolorosi della Passione, gli apostoli del Signore non sono più dodici, ma undici. Uno di loro, Giuda, non c'è più. Si è tolto la vita, scacciato dal rimorso. Aveva iniziato già, prima, a separarsi dalla comunione con il Signore e con gli altri, a fare da solo, a isolarsi, ad attaccarsi al denaro, fino a strumentalizzare i poveri, a perdere di vista l'orizzonte della gratuità e il dono di sé, fino a permettere al virus dell'orgoglio di infettarli la mente e il cuore, trasformandolo da amico in nemico e in guida di quelli che arrestarono Gesù. Giuda aveva ricevuto la grande grazia di far parte del gruppo e degli intimi di Gesù e di partecipare al suo stesso ministero, ma a un certo punto ha pretesso di salvare da sé la propria vita con il risultato di perderla. Ha smesso di appartenere col cuore a Gesù e si è posto al di fuori della comunione con Lui e con i Suoi. Ha smesso di essere discepolo e si è posto al di sopra del Maestro. Lo ha venduto e con il prezzo del suo delitto ha acquistato un terreno che non ha prodotto frutti, ma è stato impregnato del suo stesso sangue. Se Giuda ha preferito la morte alla vita e ha seguito l'esempio degli empi, la cui vita è come l'oscurità e va in rovina, Gli undici scelgono invece la vita, scelgono la benedizione, diventando responsabili nel farla fluire a loro volta nella storia di generazione in generazione dal popolo di Israele alla Chiesa. L'Evangelista Luca ci fa vedere che, dinanzi all'abbandono di uno dei dodici, che ha creato una ferita al corpo comunitario, è necessario che il suo incarico passi a un altro. E chi potrebbe assumerlo? Chi lo elegerebbe? Pietro indica il requisito. Il nuovo membro deve essere stato un discepolo di Gesù, dall'inizio, cioè dal Battesimo, nel Giordano, fino alla fine, cioè all'ascensione al cielo. Occorre ricostituire il gruppo dei dodici. Si inaugura a questo punto la prassi del discernimento comunitario, che consiste nel vedere la realtà con gli occhi di Dio, nell'ottica dell'unità e della comunione. Due sono i candidati, Giuseppe Barsava e Mattia. Allora tutta la comunità prega così. Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto, che Giuda ha abbandonato. E attraverso la sorte il Signore indica Mattia, che viene associato agli undici. Si ricostituisce così il corpo dei dodici, segno della comunione, e la comunione vince sulle divisioni, sull'isolamento, sulla mentalità, che assolutizza lo spazio del privato, segno che la comunione è la prima testimonianza e che gli Apostoli offrono. Gesù l'aveva detto, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. I dodici manifestano negli atti degli Apostoli lo stile del Signore. Sono i testimoni accreditati nell'opera di salvezza di Cristo. E non manifestano al mondo la loro presunta perfezione, ma, attraverso la grazia dell'unità, fanno emergere un altro che ormai vive in un modo nuovo in mezzo al suo popolo. E chi è questo? Il Signore Gesù. Gli Apostoli scelgono di vivere sotto la Signoria del Risorto, nell'unità tra i fratelli, che diventa l'unica atmosfera possibile dell'autentico dono di sé. Anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di testimoniare il Risorto, uscendo dagli atteggiamenti autoreferenziali, rinunciando a trattenere i doni di Dio e non cedendo alla mediocrità. Il ricompattarsi del Collegio Apostolico mostra come il Dinea della comunità cristiana ci siano l'unità e la libertà di sé stessi, che permettono di non temere la diversità, di non attaccarsi alle cose e ai doni, e di diventare martires, cioè testimoni luminosi del Dio vivo e operante nella storia. Grazie. Très Saint Père, les pèlerins de la langue française sono heureux di vous exprimere i loro sentimenti respecti e i loro filiali attacchiament. I vi assurent i loro priere per vostre persona e per vostre ministri di successeur di pierre. A la fin di questa audizione, noi chanterò il nostro Père in latino che vi troverà al dos di vostre billet d'audience. Poi il Saint Père donnerà la benedizione apostolica. Il l'accorde aussi a tutte le persone che vi sono chere, specialmente aux enfants, aux malades e aux persone che sono in l'épreuve. Il bénirà également les chapelets e gli altri objets de dévotion che vi avete apporti a cette intention. Voici le résumé en français de la catéchese che viene prononcer la saintetà del Pape François. Frères e sœurs, le voyage de l'évangile raconté dans le livre des actes des apôtres commence par la résurrection du Christ, événement qui est la source de toute vie nouvelle. Les disciples attendent en prière selon le commandement de Jésus en présence de la Vierge Marie. Manque seulement Judas, qui avait reçu la grâce de faire partie des intimes du Seigneur, mais qui, préférant la mort à la vie, a cessé d'appartenir de cœur à Jésus et s'est exclu de la communion avec lui et avec les siens. L'abandon de Judas a blessé le corps communautaire et il faut que la charge d'annoncer l'évangile passe à un autre, à un disciple qui a suivi Jésus depuis le début. Matthias est choisi, le corps des douze est reconstitué, signe que la communion est le premier témoignage que les apôtres offrent au monde. En choisissant de vivre comme des frères dans l'unité, seul environnement possible du don de soi, les apôtres révèlent un autre, le Seigneur Jésus, qui vit désormais de manière nouvelle au milieu de son peuple. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, en particulier ceux qui venusent du Gabon et de la France. Nel momento in cui riprende il tempo liturgico ordinario dopo la Pentecoste, sforziamoci in testimoniare Christo risorto nella nostra vita, nel dono che noi stessi in comunione con i nostri fratelli. Dio vi benedica. Vos saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues du Gabon et de France. » Alors que reprend le temps liturgique ordinaire, après la Pentecôte, efforçons-nous de témoigner jour après jour du Christ ressuscité dans notre vie quotidienne, dans le don de soi et en communion avec nos frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and the sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Acts of the Apostles, we have seen that the Church's evangelizing mission begins with the resurrection of Christ. As the disciples, together with Mary, waited in the upper room for the fulfillment of Jesus' promise of the Holy Spirit, they were united in prayer. From the beginning, the Church appears as a communion, a community, the people of God. Christ's choice of twelve apostles shows the continuity between the Church and the people of Israel. After the defection of Judas, the apostles were conscious that his place in the twelve had to be taken by another. Guided by Peter, the community as a whole joined in prayer to discern the Lord's choice of Matthias. Jesus had told his disciples that they would be known by their love for one another. The visible communion of the apostles was their first form of witness to the risen Lord and his saving love. May we too bear witness to the reconciling power of that love by our unity, which triumphs over pride and divisiveness and creates from diversity the one people of God. and the one people of God do it. Welcome to the pilgrims of the English language present in the future especially to those from England, Ireland, Finland, Australia, Hong Kong, Korea, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, the United States of America. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience especially those from England, Ireland, Finland, Australia, Hong Kong, Korea, Indonesia, the Philippines, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, and the United States of America. I offer a special greeting to the Divine Word missionaries from Indonesia and the interreligious delegation from Hong Kong led by Cardinal John Tong Hong. Upon all of you, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich signete er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Danach wird Papst Franziskus einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese fahren wir mit unserer Betrachtung über die Apostelgeschichte fort. Diese berichtet, dass die Apostel nach der Himmelfahrt Jesu einmütig im Gebet verharrten. Sie hatten sich dabei um Maria, die Mutter Jesu, gescharrt. Einer der zwölf von Jesus ausgewählten Aposteln fehlte. Judas, der Verräter Jesu, hatte sich von der Gemeinschaft abgesondert. Er wollte es auf eigene Faust schaffen. Er hatte die anderen für seine Interessen instrumentalisiert. Judas wurde Opfer seines eigenen Stolzes und wählte schließlich den Tod, während die anderen Apostel sich für das Leben entschieden. Den Platz und die Aufgabe des Judas musste ein anderer Zeuge des Lebens und der Auferstehung Jesu übernehmen. So baten sie Gott um die Entscheidung für den rechten Kandidaten. Und das Los fiel auf Matthias. Frei von ihren eigenen Plänen und Vorstellungen vertrauten sie ganz auf Gottes Führung. Damit wurden sie zu Zeugen der Gemeinschaft in Christus. So ist auch die DNA der Gemeinde Jesu, die Einheit der Jünger, die Freiheit des Einzelnen von sich selbst und das Zeugnis für das Handeln Gottes in der Geschichte. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Indem wir hier in Rom Christen aus der ganzen Welt treffen, können wir die Einheit in der Vielfalt wirklich leben, wie Jesus es uns gezeigt hat. Ich wünsche euch einen frohen und geistlich stimulierenden Aufenthalt in der ewigen Stadt. Der Herr segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan congerientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hemos comenzado un nuevo ciclo de catequesis que seguirá el viaje del Evangelio que narra el libro de los hechos de los apóstoles. Todo tiene origen en la resurrección de Cristo, que es la fuente de vida nueva. Por eso, los discípulos permanecen unidos y perseverantes en la oración junto a María, la Madre de Jesús y de la nueva comunidad en espera de recibir el Espíritu Santo. Esa primera comunidad estaba formada por 120 hermanos y hermanas, un número que contiene el 12, emblemático para Israel por las 12 tribus y también para la Iglesia por los 12 apóstoles elegidos por Jesús, que después de los acontecimientos dolorosos de la pasión, con la traición de Judas se redujeron a 11. Judas, que había recibido la gracia de formar parte del grupo inseparable de Jesús, perdió de vista el horizonte de la gratuidad del don recibido y dejó entrar en su corazón el virus del orgullo y de amigo se volvió enemigo de Jesús traicionándolo. Prefirió la muerte a la vida, un camino de oscuridad y ruina. Los otros 11, en cambio, escogieron la vida y la vención, convirtiéndose en responsables de transmitirla de generación en generación y del pueblo de Israel a la Iglesia. El evangelista Lucas nos dice cómo el abandono de Judas causó una herida al cuerpo comunitario. Era necesario que su misión pasara a otro, pero indicó el requisito indispensable haber sido discípulo de Jesús desde el principio hasta el fin, desde el bautismo en el Jordán hasta la ascensión. De los dos candidatos propuestos, el elegido fue Matías, que es asociado a los 11, reconstituyendo así el colegio apostólico, signo de la comunión. Y este es el primer testimonio de una comunidad viva y que sigue el estilo del Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor el don de vivir bajo la Señoría del Cristo en unidad y libertad como testigos de su resurrección para manifestar al mundo el amor y la misericordia de Dios que está presente y actúa en la historia de la humanidad. Que Dios lo bendiga. Santo Padre, los peregrinos de lengua portuguesa presentes en esta audiencia testemunhe a Vossa santidad sentimentos de gratidão y afeto filial que acompañan con sus oraciones pelas Vossas intenciones de pastor de la Iglesia Universal. No final de la audiencia cantaremos o Pai Nosso en latín cujo texto se encuentra en el verso del bilhete de entrada. Después, el Santo Padre considerará todos los presentes la bención apostólica extensiva a sus familiares especialmente aos doentes as crianças aos jovens aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades o Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã iniciamos o ciclo de catequese sobre a viagem do Evangelho no livro dos atos dos apóstolos hoje vemos como os apóstolos buscaram recompor o seu corpo que após os eventos dolorosos da paixão do Senhor ficara reduzido a onze membros Judas Iscariotes muito embora recebera a grande graça de ser parte do círculo íntimo de Jesus e de participar do seu ministério num determinado momento isolou-se apegando-se ao dinheiro e caindo no orgulho ao ponto de preferir a morte a vida os apóstolos ao contrário escolheram a vida e a benção e para tal decidiram eleger alguém para o lugar de Judas deveria ser algum discípulo de Jesus desde o batismo no Jordão até a sua ascensão ao céu elegeu-se Matias através do discernimento comunitário ou seja procurando olhar a realidade com os olhos de Deus segundo a ótica da unidade e comunhão com o corpo dos doze reconstituído vemos como a comunhão é o primeiro testemunho da obra de salvação de Cristo e da ação de Deus na história na fidelidade as palavras do Senhor nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros cari amici de lingua portuguesa que hoje prendete parte a questo incontro grazie per la vostra presença e soprattutto per le vostre preghiere saluto a tutti voi particolare i pellegrini de l'Esa da Palmeira Chávez e i gruppi venuti dal Brasile augurandovi che questo pellegrinaggio rafforzi nei vostri cuori di sentire il vivere della Chiesa sotto il tenere guardo della Vergine Madre su di voi e sulle vostre famiglia senda la benedizione del Signore queridos amigos de lingua portuguesa que hoje tomais parte neste encontro obrigado pela vossa presença e sobretudo pelas vossas orações a todos vos saúdo especialmente os peregrinos de Lessa da Palmeira Chaves e os grupos vindos do Brasil desejando-vos che questa peregrinazione fortaleza nos vossos corazioni o sentir e o vivere in igreja sob o terno olhar da Virgen Mãe sobre vós e vossas famílias dessa benção do Senhor o terno dici Abul the An 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 Grazie a tutti 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 Saluto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti